Cari amici, benvenuti in questo nuovo episodio di Stacey's Oggi siamo in compagnia di Ephraim's Tube Ciao a tutti amici Raccontaci un po' chi sei, di cosa ti occupi Faccio video su YouTube fondamentalmente Questa è la mia professione principale E poi intorno a YouTube faccio altre cose Da videomaker fondamentalmente Qualcosa legato alla fotografia Però la mia passione principale E' effettivamente il mio lavoro Con il quale mi pago le bollette E' fare video su YouTube Come descriveresti ciò che fai In poche parole Ok, molto semplicemente Costruisco dei video Intorno a degli argomenti Che nel mio caso riguardano la tecnologia Il videomaking e la fotografia Questi video Sono a volte video Che realizzo io Di mia spontanea volontà Altre volte magari legate a un prodotto Che mi manda un'azienda E che mi paga per sponsorizzare fondamentalmente Diciamo che il tuo canale All'inizio era un po' incentrato sui viaggi Poi sul videomaking Sulla tecnologia Oggi sei riuscito diciamo A unire tutte e tre le cose O hai un settore preciso No, ci sono tutte e tre Che convivono l'una con l'altra fondamentalmente Nel senso che a me piace molto spaziare E non fare una sola cosa e basta E questo è uno dei motivi per cui Io ho cominciato a lavorare con YouTube Faccio un piccolo escursus Ho iniziato a lavorare come videomaker Classico per aziende Piccole aziende delle mie zone E cose del genere Spesso comunque mi trovavo a lavorare Con altre persone Quindi io mi dedicavo magari a una sola parte O solo il montaggio O solo le riprese Mentre a me è sempre interessato molto Tutto quanto il processo di produzione di un video Compresa l'idea E YouTube mi dà la possibilità di Avere tutto quanto a 360 gradi E quindi anche in quello che faccio su YouTube Cerco di spaziare il più possibile Ovviamente devi scegliere degli argomenti Perché altrimenti per le persone che guardano È troppo un casino Soprattutto È un po' una confusione Esatto Soprattutto all'inizio Poi col tempo Puoi spaziare un pochino di più Perché si afferma Tra virgolette il personaggio E quindi la gente è affezionata a te Certo ti puoi permettere un po' più di fare Esatto Però comunque scegliere degli argomenti Che ti piacciono Che ti danno soddisfazione E seguire un'idea generale Stare all'interno di una sorta di tunnel È molto importante Per far sì che il tutto funzioni Però cerco di mantenere la base Quella della tecnologia E poi sopra ci costruisco Col mio stile Argomenti diversi Legati anche a fotografie E videomaking fondamentalmente Com'è cambiata la tua vita Da quando fai video su YouTube? Cioè Era quello che volevi fare Volevi fare altro Allora Io Ho 23 anni 24 quest'anno Quindi Non ho tutta questa esperienza Per dire Ho sempre lavorato Su quello che Sì Quindi magari come sta cambiando Però per dirti Ho iniziato a sperimentare Per capire che cosa mi piaceva Effettivamente fare Cosa avrei voluto fare Nella vita Molto presto A 16-17 anni O a 17 anni Ho aperto il canale YouTube E in realtà Prima ancora Fin da quando ero piccolo L'ho sempre giochicchiato Con videocamere Macchine fotografiche Quindi Ho semplicemente Pian piano nel tempo Messo insieme I diversi pezzi Che mi rappresentano Per costruire qualcosa Che poi è confluito In YouTube Com'è cambiata? È cambiata nel senso Che io A differenza delle persone Che conoscevo Dei miei amici Da una vita Che conosco dall'asilo Ho sempre avuto Passioni un po' diverse Loro sono sempre stati Molto appassionati Di calcio Di sport Piuttosto che Varie robe Che io Sì di cose diciamo Un po' più Quotidiane Classiche Io non ho mai avuto Un grosso interesse In tutta questa roba E quindi Ho sempre fatto fatica A integrarmi Inserirmi Singularmente Con le singole persone Sono sempre andato Abbastanza d'accordo Ma quando ci si trovava In gruppo Spesso Mi trovavo a Non sapere effettivamente Cosa dire Perché parlavano di roba Che io A me non interessa Mi interessava E quindi Non Boh E quindi YouTube mi ha permesso Di entrare in contatto Con persone Che sono Molto più simili a me E che come me Magari non si trovavano Nel loro gruppo Inizialmente E quindi hanno cercato Qualcos'altro Di sicuro Mi ha aiutato A conoscere Nuove persone E ne ho conosciute Veramente tante E allo stesso tempo Mi ha aiutato Ad aprirmi A costruire Qualcosa di mio E ad avere qualcosa Da raccontare E adesso Quando mi trovo Con gli amici Di una vita Che conosco Da sempre Ho qualcosa Effettivamente Da raccontare E tu Questa cosa Questa decisione Di trasferirti A Milano L'hai sentita Più per un motivo Di networking Quindi di costruire Altri contatti Quindi anche lavorare Con brand Partner Un po' più tecnologici Entrambi in realtà Perché hai fatto Questo passo Semplicemente Allora Mi sono trasferito Qua a Milano Il novembre 2019 Quindi l'anno scorso E il primo novembre Sono ufficialmente Arrivato qua E ho cominciato A cercare Un mese dopo Un mese dopo me Ho cominciato a cercare Casa Durante l'estate Come saprai È un disastro Trovare casa a Milano È impossibile Infatti Ci ho messo un po' Però fondamentalmente Il motivo Ho visto che l'hai trovata Anche bella Sì sì Poi l'ho sistemata un po' Era abbastanza disastrata All'inizio Però sistemandola un po' È venuta Abbastanza carina E il motivo principale È ovviamente Networking Per conoscere Più persone possibili Farsi più contatti possibili Che sono La parte fondamentale Di questo lavoro Del tuo lavoro Conoscere persone Avere contatti Sia con aziende Che con altri Personaggi Cioè banalmente Se succede qualcosa A Milano E c'è un evento Mi chiamano magari Sì Se è più vicino Esco di casa E vado Prima Dovevo organizzarmi Giorni prima E prendere i treni E ogni volta Venire giù E tornare su Erano quasi 50 euro Che se ne andavano E nell'ultimo periodo Tra l'altro Venivo giù a Milano Tipo tre volte a settimana Tra una cosa e l'altra O mi fermavo dei giorni Quindi cominciava a essere Sensato Sì un po' più costoso E quindi Che poi in realtà Costa l'affitto L'affitto costa di più Che venire giù Tot volte a settimana Nonostante sia caro L'affitto costa comunque di più Ma è proprio un insieme Anche di sanità mentale Del dire che sono qua Senza contare L'andare a vivere da solo Sì Se è più vicino Fai le cose un po' prima È molto più semplice Assolutamente Hai avuto un periodo Dove caricavi Praticamente un video al giorno Mentre adesso Stai facendo un po' più Video studiati Con inquadrature Quindi adesso Quanto ti occupa Fare un video Allora io generalmente Faccio Quando riesco Due video a settimana E ci metto Tutta la settimana Nel senso Parto col primo video Che esce Esce un video martedì E uno venerdì Generalmente Quindi esce Martedì alle 13 Aspetto che esca Guardo un po' come va Seguo un attimo Faccio quelle due o tre ore di pausa E poi Già nella giornata di martedì Comincio a pensare A ragionare A vedere Magari ho già delle idee Vecchie che Ho da realizzare E quindi da martedì A venerdì Alle 13 Quando uscirà il video dopo Io mi dedico Al 100% Al nuovo video Che deve uscire Quindi Alla scrittura No 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 Non solo la scrittura Tutto quanto A pensarlo A scriverlo A girarlo A montarlo Cioè in quei Mercoledì Giovedì E venerdì Mattina Prima delle 13 Io in quei tre giorni Devo avere il video pronto Per poi pubblicarlo E quando invece non hai più Cioè ti è mai capitato di non avere più Un'idea per un nuovo video In realtà Una crisi magari Cosa faccio adesso? Le idee sono Sono interessanti All'inizio Quando non Quando stai iniziando Non è facile avere Delle idee Però nel momento in cui Entri nel giro E cominci a Capire come funziona Ad andare per inerzia Le idee arrivano Da qualsiasi cosa Magari vedi una scena particolare In un film E dici Che figata Come posso Riprodurre quella scena A modo mio E magari ti viene in mente Che dovevi fare il video Sul mouse Del caso E quindi Dici ok La integro Quindi diciamo che sei sempre Sì sì Sei sempre Cioè il cervello è sempre attivo Appena mi viene un'idea Io Prendo l'iPhone La scrivo sopra E me la segno Poi magari a un certo Magari non la farò mai Magari a un certo punto Invece mi viene in mente Sì però scrivi comunque Già una base Esatto Che è una cosa Che comunque molte persone Non hanno Perché c'è C'è da dire Una cosa che non dice Quasi nessuno E con cui ho parlato Anche con Simone Cioè E che Quello che le persone Non mettono in conto È che per fare anche Questo mestiere Bisogna essere creativi Perché nel momento in cui Non sei creativo Vai a copiare Scopiazzare Quindi non fai più Un prodotto tuo E quindi questo è È anche una cosa da dire Che la creatività In questo mestiere È anche necessaria E non tutti possono averla Assolutamente Diciamo che la creatività La costruisci nel tempo Perché Cos'è la creatività? È la rappresentazione Del tuo stile E quindi devi capire Sì Cosa vuoi comunicare Devi trovare il tuo stile E come vuoi comunicarlo E una volta che Sì questo è pure vero Ce l'hai presente Puoi prendere anche idee Da altre persone Ma saranno Le farai tue E quindi È lì che sta la differenza È molto sottile Però sì Mentre tu hai avuto Un periodo Dove magari hai detto Io smetto Non sta andando bene Oppure hai detto sempre Vado avanti Continuo provo Perché comunque Hai avuto un periodo In cui hai fatto Diciamo quel boom Sei stato un po' fermo E poi sei ripartito Hai avuto quel periodo In cui hai pensato Magari di lasciare E passare ad altro Allora C'è sempre Quella parte Nel senso che Da subito Quando apri il canale Funziona così YouTube Nel senso che tu Produci contenuti E ogni tot C'è un contenuto Che magari va un po' meglio Degli altri Quindi hai un po' di boom Cresci un po' E in quel periodo È tutto figo Wow Aumentano gli iscritti Più commenti Più robe Questo vale da sempre Da quando hai zero iscritti A quando ne hai cento A quando ne hai mille E da sempre Da sempre Io me lo ricordo Come fosse ieri Da quando ho aperto il canale Ci sono dei periodi In cui sei soddisfatto E dei periodi Di depressione totale In cui sei Distrutto Perché Non sta andando bene Perché magari Non stai facendo Abbastanza iscrizioni Abbastanza visualizzazioni E quindi ti deprimi un po' Bisogna ricordarsi sempre Di apprezzare Dove sei arrivati E sì Anche perché Comunque Quello che è YouTube C'è YouTube È cambiato tantissimo Cambia costantemente E quindi devi essere Anche bravo a capire Quando è il momento Di cambiare E di innovarti Poi ti sei mai trovato Diciamo a dover spiegare Anche quello che fai Ai tuoi genitori O comunque a persone Un po' più grandi Che non capiscono Magari questo mondo Questo mestiere Dato che non è un mestiere Diciamo che produce Manuale Che ti dà qualcosa E diciamo Non è considerato Quasi tale Dalle persone un po' più grandi Quindi c'è stato Quel momento In cui hai dovuto spiegare Quello che fai E non necessariamente Non solo a persone Più grandi di me Anche coetanei Che non Eh sì Questo è esatto È cambiato Come ti dicevo Non mi sono mai trovato Al 100% Con il gruppo che avevo Per quanto gli voglia Un bene dell'anima Per quanto ora Mi ci trovi molto meglio Quando stavo crescendo Stavo cominciando A fare le prime cose Avevo pochi iscritti E non Non c'è stato Praticamente mai Nessuno Che ha Creduto Nel mio progetto Ed è giusto così Cioè nel senso Lo capisco Che sia così Perché Non È un po' Un salto nel vuoto E quindi Anche persone Molto vicine a me Non hanno Non so come dire Non Non hanno mai Mi hanno dato Magari dei consigli Che Io Ho cercato Di applicare Nel modo migliore possibile Capendo esattamente Che cosa Intendessero dire Perché Molto spesso Erano consigli Molto grezzi Che tu dovevi affinare Un po' I miei Sono sempre stati Di supporto Nel senso che Hanno sempre apprezzato Quello che facevo Anche perché Io ho iniziato a fare video Mentre studiavo Quindi Era una roba in più Il mio professore Quando poi ho fatto L'università Ho fatto comunicazione multimediale All'accademia di belle arti Di Cuneo Il mio professore Che avevo Di multimedia Alla fine Mi valutava Quello che facevo Su youtube E non solo Le robe in classe Che erano robe Molto semplici Quindi Nel senso C'è gente Che ha capito Che cosa Stessi facendo E anche i miei Ho sempre apprezzato Però Mia mamma Ogni tot Magari La Come dire La proposta di lavoro Che trovava sul giornale Me la mandava Mi diceva Guarda un po' Potresti Mandare un curriculum lì E io in realtà Ho anche lavorato A Burger King Per un periodo Ho fatto Varie robe Per sperimentare Però Ogni volta Continuavo a tornare A youtube Nel senso Che era Ciò che mi Dava soddisfazione E quindi Capisci che È normale Che sia così Non mi aspettavo Che la gente Capisse Adesso Che sto ottenendo Dei risultati Che effettivamente In questo momento Sto vivendo Facendo youtube Allora Le persone Capiscono Mi hanno fatto ieri Delle domande Un po' interessanti Ne ho prese proprio due Per non allungarci troppo Come hai iniziato A fare foto E video Qualche consiglio Che dai a chi Si sta facendo A questo mondo Ma Molto semplicemente Trovate qualcosa Con cui scattare Che può essere Lo smartphone Che avete Qualsiasi Esso sia E Uscite all'esterno E cominciate a scattare Stessa cosa Per quanto riguarda Il fare video Studiatevi una storia E cominciate A registrarla Trovate il modo Di montare Cioè ormai Tutto quello Che vuoi fare Lo puoi fare Ci sono tutorial Ovunque Ci sono spiegazioni Ovunque Quindi L'unica cosa Che c'è da fare E prendere E fare Io così ho fatto Fin da piccolo Ho cominciato a Con le compatte Che avevano Che tipo aveva mio zio Gli le rubavo E facevo dei mini video E poi ho cominciato a Mi sono comprato una videocamera Di quelle vecchissime Avevo pagata 200 euro al tempo Una di quelle Quindi è provare E ho cominciato a E mettersi lì Provare Esatto Studiarmi una storia Poi ero andato in fissa Con After Effects E quindi Facevo mille esperimenti Gli effetti Provavo gli effetti E così pian piano Mi sono costruito Ho imparato a fare Quello che faccio Pian piano nel tempo Perché poi ci va del tempo Quindi insomma Fondamentalmente così Nessuno ti insegnerà Cioè Sei Effettivamente a farlo Sei tu che devi Sì Esatto Sei un po' tu che devi Costruirti e sperimentare Sai mi è venuto un po' Quando ho iniziato a seguirti Poi più avanti Di associarti anche Così A youtuber americani Non so se conosci Tipo Daniel Schiffer O Peter McKinnon Cioè Secondo me Stai creando Tipo Quello che loro Stanno facendo in America Lo stai portando in Italia Con il tuo stile Secondo me è una cosa bella Perché Cioè Da quello che sto guardando Non c'è nessuno Che fa Quello che fanno loro Quindi Cioè io ti definirei Un po' Il Daniel Schiffer Italiano Grazie Ovviamente con i tuoi contenuti Eccetera Però comunque Cioè È quello Cioè Se tu ci fai caso È quello Cioè Crei dei contenuti Un po' diversi Che non si trovano Qui in Italia Quindi è anche questo Io concluderei L'intervista Chiedendoti Una cosa C'è una parola Una frase Per descrivere Quello che fai Una frase Per descrivere Quello che faccio Direi Condivido emozioni Fondamentali Di quello Che mi piace fare Ed è sempre stato Emozionare In qualche modo Le persone Cioè far provare Delle sensazioni Alle persone Che mi seguono Che guardano i miei video Che guardano Quello che faccio E quindi E quello è sempre Un Condividere Le tue emozioni Con gli altri Espresse tramite I video E quindi Questo È sempre stato Il motore Che mi ha Spinto a fare Quello che faccio Ed è alla base Di tutto quello Che costruisco Del motivo per cui Ogni tanto faccio Delle intro Un po' particolari O cerco di Da sempre Cioè ho sempre cercato Di rendere Particolari i miei video E non solo Di non fare una recensione Del prodotto Ma di raccontartelo A modo mio Di modo che Lo dicevo sempre Alto col tossile Dicevo sempre una volta Di modo che il video Potesse essere fruibile Anche per chi magari Non è Così interessato Al prodotto Ma si gode comunque Renderlo interessante Esatto Perché condividi Effettivamente delle emozioni Lui era Eframes E Ti ringrazio per essere stato qui Con me Per aver partecipato A questa intervista E Niente ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo episodio Di Stasis E ciao